Metti il 50% perché i calciatori si devono mettere in mente che il pericolo c'è e quindi per superare il pericolo si devono impegnare da 1 a 10-10. Altrimenti per la mentalità che abbiamo rischiamo più noi che gli altri. Io penso che l'impegno ci sia sempre stato. Oggi va messo in più la ferocia, la cattiveria, la testa, tutto quello che ci hanno messo fino ad oggi non è bastato quindi sicuramente tutto lo staff tecnico devono mettere più di quello che hanno messo fino adesso ma sono sicuro, io spero una cosa, che facciamo la partita fuori casa, la prima e la seconda la facciamo in casa perché sono sicuro che noi gli daremo una grossa mano alla squadra. Con uno stadio pieno gli daremo una grossa mano. La paura mia è solo quella. Voglio arrivare quinto ultimo, quarto ultimo per questo motivo che la prima la devo fare fuori casa, la seconda in casa. Sono sicuro che tutti quanti noi, perché io credo che tutti quanti noi vogliamo salvare il Teramo. Io penso che tutta l'Abruzzo, tutta la provincia di Teramo vuole salvare il Teramo perché è diventato un patrimonio.